Promuovere la crescita culturale della città di Agropoli, che deve diventare centrale anche nel mondo del cinema. Nasce con questo presupposto l'Agropoli International Film Festival, rassegna di cinema internazionale che prevede in concorso lungometraggi, cortometraggi, documentari, film d'animazione e tanti altri prodotti audiovisivi. Si comincia il 4 e il 5 febbraio con le proiezioni online e in tv sul sito www.agropolifilmfestival.com, mentre il 6 febbraio, sempre online, si assisterà alle premiazioni dei migliori filmati in diretta streaming a partire dalle ore 18. In programma una vera e propria maratona di film arrivati da tutto il mondo per vincere il Delfino d'Oro, simbolo della città di Agropoli. Le opere filmiche si distinguono tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, videoclip, trailer, film sperimentali ed arrivano da USA, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e tanti altri paesi. L'idiatore e direttore artistico del festival è il regista agropolese Gianni Petrizzo, già editore del Castellabate Film Festival, Suite Life Festival e IMTV Festival. La conoscenza, il confronto e l'interscambio culturale attraverso il cinema, ha detto il direttore, contribuirà maggiormente alla promozione internazionale della città di Agropoli. A livello turistico si avrà la possibilità di attrarre produzioni cinematografiche sul territorio e contemporaneamente valorizzare l'arte, l'inogastronomia e la storia, perché il cinema è il potere di creare sinergie in vari settori. L'International Agropoli Film Festival doveva svolgersi in presenza, ma per ora ci adattiamo alla situazione d'emergenza perché bisogna reagire e dare segnali di attività. Molto soddisfatta, Raffaella Giaccio, organizzatrice e coordinatrice della manifestazione Agropoli International Film Festival, sarà uno strumento efficace per dare anche la possibilità ai giovani che si occupano di spettacolo, arte e cultura, cinema e teatro di ottenere maggiore visibilità nel partecipare all'evento che è collegato ad altri partner internazionali affinché possano allargare connessioni, sinergie e condividere idee.